Oggi ultima tappa di Risto Golf, un po' mi dispiace, però so che poi ci ritroveremo tutti a Saturni per il gran finale, quindi c'è ancora un momento per cui stare insieme. Si sta davvero bene, siamo in tantissimi, c'è un overbook incredibile e il bello è che quando finiamo Risto Golf bisogna ben iniziarlo perché la gente comincia a capire come gira e davvero siamo veramente tanti. Alla prossima, in finale. Alla prossima, in finale.